Beh, con Adri come va? Si è fissato sul voler diventare famoso Finna il discorso addirittura si è vestito da vigile urbano e ha iniziato a girare in centro con una russa Il solito insomma Diciamo di sì Buongiornissimo! Oh, ciao Adri, ma come ti sei conciato? Ascolta qui, ho pensato che se voglio diventare famoso devo sembrare uno famoso In questo modo la gente crederà che io sia famoso e in poco tempo diventerò famoso per davvero Si è vestito da Adrion di Miraculous Ehm, credo di sì Ara, vuoi essere una miele di bagno? Eh, faccio già strage di cuori